Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi voglio vedere con voi un altro studio di funzioni, ovvero la funzione logaritmica. Quindi partiamo subito con il nostro esercizio per vedere appunto le solite cose, quindi dominio, simmetrie, intersezione con gli assi, segno, limiti, derivata prima e derivata seconda. Allora, la funzione sarà f di x uguale ln, quindi logaritmo neperiano, di x più 1 tutto fratto x. Allora, per prima cosa andiamo a studiare appunto il dominio. Il dominio possiamo vedere che, essendo una funzione logaritmica, dobbiamo studiare l'argomento. L'argomento, però, è una frazione, quindi dovremo studiare x più 1 fratto x maggiore di 0. Andiamo a fare il numeratore, ovvero x più 1 maggiore di 0, quindi x maggiore di meno 1, e poi il denominatore, ovvero x maggiore di 0. Andiamo a fare il nostro disegno, quindi meno 1, 0. Entrambi saranno maggiori e poi facciamo il prodotto dei segni, quindi più, meno, più. Io lo voglio maggiore, quindi sarà qua e qua, ovvero x deve essere minore di meno 1 unito a x maggiore di 0. Quindi, se volessimo fare una bozza del nostro disegno, andremo a fare. Allora, mettiamo meno 1 e 0, che si troverà qua. Quindi, lui dice che la x deve essere minore di meno 1, quindi io traccio una linea proprio dove sta meno 1, e inoltre, siccome il valore deve trovarsi sia dove x è minore di meno 1, sia dove x è maggiore di 0. Quindi, sicuramente, qua al centro, ovvero tra meno 1 e 0, non mi sarà alcun disegno. Poi, come secondo punto, andiamo a vedere proprio il segno della funzione. Dobbiamo porre la nostra funzione maggiore di 0, quindi f di x maggiore di 0, ovvero facciamo logaritmo neperiano di x più 1 tutto fratto x maggiore di 0. Dobbiamo trasformare anche questo 0 in un logaritmo, quindi ln di x più 1 fratto x maggiore di 0 si ottiene proprio come il logaritmo di 1. A questo punto ln e ln lo leviamo per ottenere x più 1 fratto x maggiore di 1. E quindi mi vado a fare il minimo comune multiplo e mi porto questo più 1 a quest'altro lato, ovvero faccio x più 1 tutto fratto x. Questo me lo porto qua, quindi meno 1, quindi viene meno x maggiore di 0. Ho ottenuto 1 fratto x maggiore di 0. Anche in questo caso è fratto, quindi andrò a fare numeratore 1 maggiore di 0, posso scrivere subito sempre, poi denominatore x maggiore di 0. Faccio il mio disegno, sempre tratto continuo e qua maggiore di 0. Abbiamo meno più, io volevo quello positivo, quindi x sarà maggiore di 0. Allora, possiamo dire che la nostra funzione sarà positiva, quindi maggiore di 0 quando x è maggiore di 0. Invece sarà negativa quando x è minore di 0. Quindi sul nostro disegno andrò a cancellare sia la parte di sotto perché noi abbiamo detto che quando x è maggiore di 0 era positivo, quindi si deve trovare qua sopra. Invece quando x era minore di 0 era negativa e quindi si troverà qua sotto. Come terzo punto andiamo a vedere invece le simmetrie, eventuali simmetrie. Per quanto riguarda le simmetrie, questo non c'è neanche bisogno di analizzarlo e andarlo a studiare perché se guardiamo il dominio così come il disegno vi faccio vedere che cosa succede. Possiamo vedere che la nostra funzione non sarà simmetrica né rispetto all'asse delle y né rispetto all'origine, quindi sicuramente possiamo subito dire senza, come dicevo, analizzare che non vi saranno simmetrie, quindi la funzione non sarà simmetrica, quindi non sarà né pari e né dispari. Come quarto punto, invece andiamo a vedere l'intersezione con gli assi. Allora, prendiamo la nostra funzione y uguale ln di x più 1 tutto fratto x, una volta mettiamo x uguale 0, mentre un'altra volta mettiamo che la y deve essere uguale 0. Allora, se y è uguale 0, possiamo andare a risolvere. Lo 0 lo trasformiamo nuovamente in logaritmo di 1, quindi avrà x più 1 tutto fratto x uguale 1, ovvero abbiamo x più 1 meno x tutto fratto x uguale 0. Possiamo vedere che al numeratore si leverà tutto, quindi possiamo subito dire che non avremo intersezioni con l'asse delle ascisse. Invece andiamo a vedere quando x è uguale 0. x uguale 0 però dal nostro dominio non appartiene appunto al dominio stesso, quindi questo non va per niente studiato, perché come vi dicevo x uguale 0 non appartiene al dominio, quindi anche questo sistema è venuto nullo, quindi la nostra funzione non interseca né l'asse x né l'asse y. Ora mi vado a studiare i limiti. Allora, devo fare il limite per x che tende a meno infinito di ln di x più 1 tutto fratto x, poi il limite per x che tende a più infinito di ln di x più 1 tutto fratto x e poi dobbiamo prendere i due valori del nostro dominio, ovvero 0 e meno 1, quindi il limite per x che tende a 0 da destra e il limite per x che tende a meno 1 da sinistra. Ora ne andiamo a vedere piano piano tutti. Allora iniziamo con questo meno infinito. Allora io raccolgo la x al numeratore perché avranno lo stesso grado, quindi faccio x per 1 più 1 fratto x tutto fratto x, in modo tale che x e x si semplifica e se andassi a mettere meno infinito qua sotto meno infinito, verrà proprio 1 fratto infinito che viene 0, quindi abbiamo un logaritmo di 1 che farà proprio 0 da sinistra. Invece vediamo col più infinito. Verranno gli stessi calcoli perché io metto sempre la x in evidenza e quindi ottengo ln in questo caso però 1 da destra e quindi verrà proprio 0 da destra. Invece ora vediamo con 0 e con meno 1. Allora quando vado a sostituire 0 io ottengo proprio il logaritmo neperiano di 1 fratto 0 da destra che sarà più infinito. Invece quando vado a sostituire meno 1 ottengo proprio il logaritmo neperiano di meno 1 più 1 che viene 0 da sinistra fratto meno 1 da sinistra che viene meno infinito. Quindi la curva ammette due asintoti verticali che saranno proprio x uguale meno 1 e x uguale 0. Ora invece passiamo alle derivate. Allora la derivata prima sarà proprio 1 fratto l'argomento del logaritmo per la derivata di questo rapporto. Quindi verrà 1 per x meno x più 1 per 1 perché è la derivata del denominatore tutto fratto x alla seconda. Questo lo capovolgo quindi viene proprio x fratto x più 1. Invece qua possiamo vedere che viene x meno x si leva quindi viene proprio per meno 1 fratto x alla seconda. Dove x e x lo possiamo semplificare quindi verrà meno 1 fratto x per x più 1. Possiamo vedere che il dominio della derivata coincide con il dominio della funzione quindi possiamo subito dire che non esistono punti critici in cui la funzione continua ma non derivabile. Infatti possiamo vedere che f primo di x non si annullerà in tutto il suo dominio quindi non esistono punti critici in cui la funzione sia derivabile. Ora però dobbiamo cercare gli intervalli in cui la derivata ovvero la nostra funzione sia crescente o decrescente. Quindi andiamo a studiare la derivata prima maggiore di zero. Quindi abbiamo meno 1 fratto x per x più 1 maggiore di zero. Numeratore meno 1 maggiore di zero possiamo subito dire mai. Denominatore invece abbiamo x per x più 1 maggiore di zero ovvero x maggiore di meno 1. Faccio prima un disegno solo del denominatore quindi meno 1 0 sono entrambi maggiori più meno più. E' uscito lo stesso del dominio quindi x minore di meno 1 unito a x maggiore di zero. Ora lo vado a graficare con il numeratore quindi abbiamo meno 1 0 e poi mai. Mai tratteggio. Invece di qua abbiamo minore maggiore a noi serviva maggiore quindi era proprio qua al centro perché viene meno più meno. Quindi possiamo vedere che la nostra funzione sarà qui decrescente, qui crescente e qui decrescente. Ora andiamo a fare la derivata seconda. Allora derivata seconda uguale. Allora nella derivata seconda possiamo vedere che la derivata del numeratore sarà zero quindi dobbiamo partire direttamente con la derivata del denominatore. siccome quando noi facciamo il secondo termine del nostro numeratore ci sta questo meno facciamo meno per meno più. Poi viene più 2x più 1 perché è come se fosse x al quadrato più x. x al quadrato la derivata è 2x, x la derivata è 1. Al denominatore invece x al quadrato per x più 1 tutto al quadrato. Anche in questo caso possiamo vedere che la derivata seconda non si annulla per nessun valore del dominio quindi non esistono punti di flesso. Dobbiamo cercare solo intervalli in cui la funzione è concava o commessa. quindi ce l'assuriamo maggiore di zero. Facciamo 2x più 1 fratto x alla seconda per x più 1 alla seconda maggiore di zero. Allora numeratore sarà 2x più 1 maggiore di zero quindi x maggiore di meno un mezzo. denominatore invece invece abbiamo sia un quadrato e un quadrato. Quindi il denominatore sarà sempre maggiore di zero perché abbiamo sia un quadrato sia un quadrato di binomio quindi per ogni x appartenente ad r. Allora nonostante io abbia avuto come x maggiore di meno un mezzo ci dobbiamo ricordare che x maggiore di meno un mezzo non è accettabile nel nostro dominio quindi nel nostro disegno voi dovete mettere sempre meno uno e zero perché meno un mezzo si trova qua al centro. quindi dovete fare che sarà maggiore di zero mentre di qua il tratteggio. Poi abbiamo un sempre e quindi verrà meno più dove questo tratto centrale addirittura lo possiamo anche cancellare e fare una cosa del genere. infatti possiamo dire che la nostra funzione sarà concava quando x è minore di meno uno sarà convessa quando x è maggiore di zero proprio perché qua al centro la funzione non esiste. ora quello che c'è rimasto da fare è andare a disegnare il disegno. allora in base ai limiti che ci siamo trovati dove avevamo più infinito meno infinito i due asintoti viene una cosa del genere. questo sarà il grafico della funzione logaritmica che avevamo visto. io spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un like e poi ci vediamo domani con un altro argomento. ciao